Ciao ragazzi, si torna a sperimentare con il Raspberry Pi 3. In particolare oggi vedremo una nuova distribuzione a 64-bit compatibile anche con i piccoli single-board computer della fondazione inglese. Sto parlando di Manjaro Linux in versione ARM. Manjaro è un sistema operativo a mio avviso molto interessante perché è basato su Arch e segue un rilascio degli aggiornamenti rolling. Questo significa che non ci sono versioni del sistema ogni tot mesi o d'anni come accade con Debian, Ubuntu, Raspbian, Fedora e tante altre distribuzioni Linux più o meno famose ed oserei dire la maggior parte di quelle esistenti. Qui gli aggiornamenti sono costanti e continui. Non appena una nuova versione di un software viene rilasciata, essa diventa immediatamente disponibile all'installazione. E non parlo di browser web, pacchetti di ufficio, o minor release di software desktop i quali, solitamente, sono tra virgolette abbastanza frequentemente rilasciati su un po' tutte le distribuzioni. Mi riferisco soprattutto ai blocchi nevralgici dell'OS, come il kernel o l'ambiente desktop stesso. Ecco, questi interi blocchi nelle distribuzioni tradizionali passano a maggior release più recenti solo in contemporanea al rilascio di nuove versioni del sistema operativo stesso, ad esempio ogni 6 mesi in Ubuntu o qualche tempo in più su Debian. Spesso accade inoltre che le distribuzioni più diffuse tendano ad essere, tra virgolette, conservative. Difficilmente si avranno le ultimissime versioni di ogni software e, in base a quanto si punti alla cosiddetta stabilità, i manutentori delle varie distro sceglieranno sempre versioni meno recenti ma più collaudate. Il che, sia chiaro, non è necessariamente un male. Ad esempio in ambienti lavorativi è molto meglio puntare alla stabilità più che alle novità, sempre che, chiaramente, si ha garantito il supporto per le fix di sicurezza e la risoluzione repentina di eventuali bug. A casa o in altri contesti, invece, il discorso cambia. È molto più probabile che si vogliano provare il prima possibile le novità ed in generale avere un sistema che sia il più allineato possibile con le ultime novità. Arch va incontro a questo secondo scenario, perché segue una filosofia differente ad esempio da quella di Debian o Fedora e Derivate. Sui repository vengono caricate le versioni più recenti di tutti i software possibili ed immaginabili. Praticamente c'è ogni programma esistente grazie anche ad AUR e alla possibilità per gli sviluppatori di caricare direttamente e indipendentemente il loro software lì sopra. Gli aggiornamenti sono perciò costanti e sempre tra virgolette freschi, e sta all'utente decidere che cosa installare, aggiornare, ecc. Ciò chiaramente può portare ad un sistema molto meno stabile ed è sicuramente richiesta un po' di esperienza da parte dell'utente, al quale però viene anche fornita in cambio una documentazione di supporto che è tra le più estese, complete e davvero ben curate esistenti. Tant'è che spesso anche chi usa altre distribuzioni Linux fa almeno in parte affidamento ad essa per risolvere eventuali problematiche. Manjaro, che come abbiamo detto è basata su Arch, fa un passo in più. Mantiene la flessibilità data dalla distribuzione madre, ma aggiunge uno strato, tra virgolette, protettivo. Le nuove versioni dei software non sono aggiunte ai repository di Manjaro fin tanto che non vengono testate dal team che segue lo sviluppo dell'OS. Ovviamente l'utente può forzare i repository AUR di Arch e bypassare il controllo, ma per un utente meno smaliziato questo filtro è una manna dal cielo. Si faranno comunque gli aggiornamenti in modo rapido, senza aspettare mesi e mesi, ma pochi giorni. E, almeno in teoria, tali aggiornamenti saranno anche indolori perché già testati da un team dedicato. Oltre a ciò, Manjaro offre anche alcuni tool automatici che facilitano la vita ai meno esperti che non dovranno così partire da zero come con Arch e configurare tutto a mano. E, almeno lato PC, questa distro offre tutti i principali ambienti desktop già pronti all'uso. Su ARM, quindi su Raspberry Pi nel nostro caso, la scelta è limitata a LXQT, che però è un DE leggerissimo, personalizzabile e sufficientemente completo per gestire il nostro single-board computer a 360 gradi. Semplificando di molto, perciò, Manjaro è una versione più user-friendly di Arch, che punta alla velocità di sistema, alla personalizzazione spinta e nell'offrire un sistema operativo che sia il più possibile aggiornato. Ma come gira tutto ciò sul piccolo Raspberry Pi 3? Inutile dire che i passaggi iniziali per avere Manjaro sul Pi sono sempre gli stessi. Scaricare l'immagine dal sito ufficiale del progetto, scriverla su di una microSD con uno o qualsiasi dei tool di scrittura pre-posti come Hatcher, quindi inserire la SD nel Pi, collegare mouse, tastiera e monitor, ed infine avviare il single-board computer collegandola alla corrente. Al primo avvio sarà richiesto di indicare un nuovo utente con la relativa password, di impostare la password per l'utente root, di specificare la lingua d'uso nonché il layout della tastiera. 4 semplici passaggi che non occupano più di 5 minuti. Fatto ciò, il Pi verrà riavviato e saremo subito pronti all'utilizzo. I pochissimi e semplici passaggi di configurazione iniziale fanno subito capire come tale sistema operativo sia votato alla semplicità anche per gli utenti meno esperti. A questo punto, previa autenticazione con l'utente creato in fase di setup, avviamo l'ambiente Desktop LXQT, che è molto molto semplice, con una disposizione delle barre di controllo simile a quella che è l'esperienza d'uso di altri sistemi operativi. Il bello però, cosa che ho immediatamente fatto, è che tale disposizione può essere modificata e personalizzata. La barra principale può ad esempio essere spostata in alto, a sinistra o a destra, e ne possono essere aggiunte anche altre. Su tale barra sono presenti diversi widget. Quello per mostrare tutte le app installate e suddivise per categoria, quello per switchare tra i desktop in uso, i collegamenti rapidi alle app che usiamo di più, il widget che mostra le applicazioni aperte, quello per l'orologio, e tutte le icone di stato per la connettività. Tutti questi widget possono essere accesi o spenti, modificati di posizione, e chiaramente ne possono essere aggiunti tanti altri in qualsiasi momento si desideri farlo. Chiaro che queste non sono caratteristiche intrinseche di Mangiaro, ma ci sono perché sono di LXQT. La scelta che è stata fatta dal team però è la disposizione della barra e dei widget di default, ed è sicuramente ottima visto che c'è tutto l'occorrente per operare fin dal primo avvio. E poi il team ha scelto questo tema generale scuro che si riflette in tutte le aree del sistema. Aree che, ancora una volta, possono essere personalizzate in ogni minimo dettaglio. Sia il desktop con lo sfondo e quali icone mostrare, il file manager che può assumere tra virgolette al volo le varie visualizzazioni del caso, ed anche il decoratore delle finestre cioè l'elemento che mostra il titolo, i bordi ed i comandi di sistema per ogni finestra mostrata a schermo, può essere personalizzato nella posizione di ogni elemento. Io ho spostato le 3 azioni principali sulla sinistra ed aggiunto 2 azioni secondarie sulla destra, ma chiaramente potete combinare le cose come meglio preferite. Modificare l'aspetto di ogni parte del sistema è sicuramente uno dei punti di forza di quest'ambiente, tant'è che non mancano vari tool atti proprio alla selezione di font, colori, icone e qualsiasi altro elemento si desideri. Ok, ma a parte la personalizzazione, il secondo punto di forza di quest'OS è l'utilizzare Pac-Man come gestore dei pacchetti ed il poter sfruttare i ripositori super forniti di Arch. Come vi avevo anticipato, sta all'utente decidere se affidarsi alle tempistiche del team Mangiaro ed attendere il loro check prima di ricevere le novità, oppure se bypassare ed attivare AUR per avere tutto e subito. In ogni caso, la gestione dei pacchetti, la cerca di applicazioni, la selezione e via discorrendo è sicuramente uno degli aspetti migliori di questo sistema. Ed è perfino possibile abilitare il downgrade così da poter tornare indietro a pacchetti più stabili, nonché giocare con i kernel disponibili semplicemente regandosi nell'apposita utility. Utility che consente di gestire velocemente anche l'hardware ed altre funzionalità del sistema in modo rapido e centralizzato. Il terzo punto riguarda la velocità generale. Sul Pi il sistema non è ovviamente fulmineo, ma è sicuramente molto più reattivo di tante altre distribuzioni. Si riesce a fare un po' di tutto senza spazientirsi, dall'aprire la suite d'ufficio a riprodurre file multimediali. Navigare su internet è invece un po' più rognoso sia con Firefox che Chromium. Ad esempio è praticamente impossibile riprodurre filmati dal web. Una cosa interessante da sottolineare, però, è come il sistema sia veramente pulito e snello. Ci sono pochissimi servizi attivi, pochissimi deponi in esecuzione. Dando uno sguardo ai processi in background, si può notare come siano un numero irrisorio rispetto a quelli che solitamente partono su altri sistemi operativi o distribuzioni Linux. Occhio, la fluidità generale è paragonabile a quella di Raspbian o altri che di Ubuntu Mate, ma nel complesso mi sento di promuovere a pieni voti questo porting. Di sicuro è una valida alternativa per chi vuole un sistema desktop-like, snello, completo e con software sempre aggiornato. E tra l'altro, volendo, su Manjaro è anche possibile utilizzare gli snap packages ed i flat packages operazioni da configurare a mano, chiaramente. Insomma, si ha a disposizione qualsiasi possibilità. Anche perché di base l'ambiente è abbastanza vuoto, e a parte quei pochi programmi preinstallati , anteprima immagini, blocco note, gestore file compressi e poco più, occorrerà farsi un giretto sui repository per ampliare il parco software a disposizione. Una nota. Per chi vuole smanettare con sensori e quant'altro, penso che Raspbian rimanga il sistema ad abbattere, soprattutto per comodità e compatibilità out of the box. Ma con un po' di smanettamento, anche su Manjaro è possibile controllare la testata GPIO. Bene, direi che è tutta per questa panoramica. Sono rimasto davvero colpito da Manjaro, era da un po' che volevo provarlo, e devo dire che anche sul Pi si comporta decisamente bene. E voi che ne pensate? Gli darete una chance? Vi aspetto nei commenti per sapere la vostra, e ci sentiamo al prossimo video. A presto! Ciao!